Allora, innanzitutto questa è una notizia freschissima ed è un video che non sarebbe dovuto uscire perché sto elaborando un altro video che ancora sta a carissimo amico e che quindi ve lo caricherò stasera alle 21.05 Ma detto questo ragazzi, con un tweet Zlatan Ibrahimovic annuncia la rescissione del contratto col Manchester United anticipatamente, non se ne andrà a fine stagione ma lo farà proprio ora per quale motivo, ve lo svelo immediatamente, è una cosa semplicissima andrà a giocare in Major League Soccer così come aveva detto che avrebbe finito la carriera proprio in America e lo farà ai Los Angeles Galaxy, non v'ho salutato, ciao, bella a tutti Siamo tornati con questo nuovo video perché Ibrahimovic chiude la carriera tra virgolette al Manchester United con 29 gol in 53 partite ma soprattutto ha conquistato la scorsa stagione una gran bella Europa League tra virgolette perché lui se non ricordo male era infortunato ma mi strozzo pure, mi viene da rimette Ma detto questo, perché il Manchester United ha deciso di rescindere il contratto a Zlatan Ibrahimovic? Perché Mourinho e il Manchester United aveva capito che ormai Zlatan Ibrahimovic non sarebbe stato poi così determinante e fondamentale per le sorti del Manchester United L'infortunio dello scorso anno, la rottura del legamento, del ginocchio e quant'altro poi vabbè insomma il recupero ma non è più riuscito a guadagnarsi il posto da titolare motivo per cui Ibrahimovic si sarà fatto due conti e avrà pensato sentite sapete che c'è, io me ne vado in America, chiudo la carriera lì e finisce la storia anche perché conoscendo Ibrahimovic, giocatore d'orgoglio, è una persona che non accetta ovviamente di fare la panchina questo è il mio pensiero ma la vera domanda è, ho letto secondo indiscrezioni, che ai Los Angeles Galaxy dovrebbe guadagnare fino al 2019 1,5 milioni di dollari possibile che non ha trovato una squadra disposta a dargli una cifra più elevata però ritorniamo sempre al discorso che Ibrahimovic non voleva concludere la stagione in panchina quindi magari è stato mosso anche da questa scelta tra virgolette forse azzardata ma che gli consentirà, io non credo, di andare dopo questa esperienza a Los Angeles Galaxy da qualche altra parte o in qualche altro club europeo importante, dispiace perché sinceramente andare negli Stati Uniti non dico che è una sconfitta ma è sicuramente una chiusura di carriera un conto è continuare nel calcio europeo che conta e un conto invece è andare a svernare lì, come dice mio fratello io voglio sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti stavo aspettando perché questa è una notizia che in realtà gira da un pochino di tempo stavo aspettando l'ufficialità però visto che Ibrahimovic ha fatto il tweet e ha detto ho rescisso il contratto col Manchester United e il video ancora sta così e non me si elabora ho detto mo quasi quasi ci dico due parole così voglio sapere dai miei followers che cosa ne pensano al riguardo secondo voi Ibrahimovic ha fatto bene o magari avrebbe potuto aspettare la fine della stagione ed andare magari per un'altra stagione almeno in un club europeo anche abbastanza importante perché secondo me, per dica la verità un club europeo disposto a prendere se Ibrahimovic e Fai Efall titolare per almeno una stagione lo avrebbero trovato lo avrebbe trovato senza alcun problema anche abbastanza importante ma voglio sapere la vostra scatenatevi nei commenti ragazzi miei io mentre aspetto che sto video si elabora 21.05 ve l'ho detto, ve lo pubblico a quell'ora a più tardi, ciao regà